Abbiamo con noi il signor Fabrizio Ciavatta della Trainerlink SRL. Si può parlare brevemente della nostra azienda, nel senso di dove opera, che tipo di clienti ha, quanti dipendenti, in cosa siete specializzati? Sì, la nostra è un'azienda a tendenza giovane e ci occupiamo principalmente della gestione dell'invio e dell'analisi dei dati di borsa. Siamo leader di mercato di questo settore, in più abbiamo anche un settore che si occupa di videocomunicazione e di invio in tempo reale di flussi video. E inoltre ci occupiamo anche di automazione e da qui il nostro rapporto con la BB. Che cosa Trainerlink eccelle? O meglio, dov'è che siete proprio leader di mercato e punto di riferimento? Sì, siamo forti nella gestione e nell'analisi in tempo reale dei dati di borsa e abbiamo dei clienti importanti come ad esempio Milano Finanza, Direkta e Sole 24 Ore. Siamo specializzati in questo settore e siamo un punto di riferimento. Voi avete da poco iniziato un rapporto con la BB legato all'utilizzo di motori e azionamenti nel campo dell'industria testa. Sì. Ce ne può parlare? Abbiamo iniziato una collaborazione con la BB come System Integrator e quindi ci occupiamo di programmare i dispositivi, di poter inserire l'intelligenza all'interno dei componenti. e le nostre attualmente abbiamo lavorato e stiamo lavorando nel settore del tessile e abbiamo utilizzato i prodotti della BB per ciò che riguarda la Motion e adesso stiamo per iniziare un'altra attività con l'utilizzo del PLC AC500 e con le librerie di Motion. e quindi sempre nel settore dei materassi. Come giudica la presenza di ABB in fiera? O meglio, come giudica la possibilità di avere un partner, un fornitore che tutto sommato è in grado di offrire dal motore all'azionamento, al servomotore, il PLC, il robot, il sistema robotizzato? Sì, in questo caso la presenza di ABB è estremamente interessante perché innanzitutto, come diceva lei, copre una serie estremamente variegata di quelle che sono le componentistiche elettromeccaniche ed elettroniche estremamente capillare. Direi che ha praticamente qualunque tipo di dispositivo che vada dal semplice contatto a relai fino alla logica di controllo numerico più sofisticata. Inoltre ABB è un grande gruppo presente a livello internazionale e quindi è in grado di garantire di ricambio la componentistica e il servizio post vendita che è estremamente interessante. Perché voi vendete anche all'estero? Attualmente stiamo realizzando una macchina per un nostro cliente che vende anche all'estero e si è rivolto ad ABB proprio perché vendendo i suoi componenti all'estero inizialmente aveva un'elettronica custom dedicata con le problematiche di eventuale sostituzione. Il fatto di poter utilizzare un partner come ABB è importante perché permette di poter sostituire i componenti in qualunque parte del mondo. Questa è una cosa assolutamente un plus per il cliente. Che consigli darebbe ad un giovane che si affaccia al mondo del lavoro? Io penso che il vero segreto del settore sia quello di non perdere mai la voglia e il divertimento. Diciamo che il lavoro per noi è quasi un divertimento e di poter lavorare anche da casa, nel senso di potersi divertire, a sperimentare nuove soluzioni o nuove tecnologie informatiche. Noi ci sentiamo un gruppo, un team e per noi lavorare è principalmente una passione. Siamo fortunati, come si vedono poi in queste aziende americane di successo, dove sì effettivamente sembrano più dei campus che delle aziende, però secondo me è qualcosa di importante perché l'azienda è un posto dove si passa la maggior parte della giornata e quindi è fondamentale avere un posto di lavoro dove uno si sente a proprio agio e lavora con passione. La ringrazio per il tempo in concesso. Grazie a voi. E arrivederci. Arrivederci. Grazie a voi.